Garante infanzia e adolescenza approvata la relazione sull'attività 2022 e la proposta di risoluzione votata a maggioranza. Apprezzamento per l'attività svolta con un richiamo alla maggiore attenzione possibile sui crescenti problemi legati al disagio psicologico e alle dipendenze che affliggono i minori. Istituti di garanzia difensore civico l'aula approva la risoluzione di apprezzamento per l'attività 2022 l'atto passa con 21 voti a favore e 11 contrari. Arte Bibbiena città toscana della fotografia ha presentato il programma della prossima edizione che inizia sabato 17 giugno. Il consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza con il voto favorevole del Partito Democratico la proposta di risoluzione sulla relazione sull'attività svolta nel 2022 dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana Camilla Bianchi. Contrario il voto di Forza Italia non si sono espressi gruppo misto Toscana Domani e Fratelli d'Italia mentre la Lega non ha partecipato al voto. Favorevole invece con l'eccezione dell'astenzione del consigliere di Forza Italia Marco Stella il voto dell'aula all'emendamento prima firmataria la consigliera regionale Valentina Mercanti. Al termine del dibattito e dopo l'illustrazione del presidente della commissione affari istituzionali Giacomo Bugliani sono stati respinti l'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia e la proposta di risoluzione primo firmatario Marco Casucci della Lega. Sentiamo dunque le parole di Bugliani e Casucci. Si è preso atto dell'attività del Garante nel corso del 2022 nel fatto che il Garante abbia dovuto affrontare le esigenze tradizionali collegate alla tutela dei minori nel territorio toscano ma anche a esigenze sopravvenute derivate soprattutto dalla prosecuzione ancora nel 2022 dell'emergenza sanitaria che ha posto rispetto ai minori una serie di attenzioni particolari. Così come intensa è stata l'attività del Garante con riferimento al tema della guerra in Ucraina anche per quanto riguarda il trattamento dei minori stranieri non accompagnati e anche il trattamento che deve essere riservato ai profughi dall'Ucraina. Un'attività che peraltro ha visto partecipare il Garante al tavolo interistituzionale che è stato organizzato presso la prefettura di Firenze. Nel corso del 2022 sono state confermate le adesioni da parte del Garante a tutta una serie di progetti che si sono svolti a livello regionale e anche organizzati da altri enti. Tra questi ricordiamo soprattutto quelli dedicati al tema della legalità e quelli dedicati all'autismo collegato appunto ai minori e soprattutto all'esercizio delle attività commerciali con particolare riferimento ai minori che sono appunto colpiti da autismo. Indubbiamente non è stato un periodo facile quello degli ultimi anni anche per quanto riguarda il mondo dell'infanzia. Lo stesso Garante ha formato tutta una serie di osservazioni per quanto riguarda la didattica a distanza, l'utilizzo della mascherina a scuola, la vaccinazione. Noi crediamo che questi temi si debbano affrontare anche con un approccio costruttivo che tenga conto del periodo che abbiamo vissuto e di un interesse collettivo. Quello che noi diciamo è che c'è molto da fare per migliorare le risorse a disposizione delle Garante per l'infanzia e dell'adolescenza se ci crediamo davvero perché altrimenti si rischia di avere quello che lo stesso Garante parla un vuoto simulacro. Non possiamo permettercelo soprattutto in considerazione dei dati che ci fanno seriamente riflettere. Consideriamo che sono dati abbastanza remoti perché dati recenti non li abbiamo ma intorno prima che iniziassi il Covid. C'è un 10% della popolazione giovanile in condizioni di povertà relativa. C'è un 17% di giovani che non cercano lavoro, non lavorano e neanche studiano. Quindi veramente in situazioni non facili anche per i risvolti sociali di questa loro posizione. Durante l'ampio dibattito il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli, ha sintetizzato l'impegnativa contenuta nell'ordine del giorno del suo gruppo in cui viene chiesta una riorganizzazione generale della struttura per garantire una piena e migliore funzionalità. Sentiamo le sue parole. Per il terzo anno siamo di fronte a un dibattito surreale. Noi abbiamo una Garante per l'infanzia che per il terzo anno consecutivo si lamenta del fatto che la Giunta regionale non la mette nelle condizioni ideali per poter lavorare. Si lamenta di non avere struttura adeguata, si lamenta di aver chiesto un potenziamento dell'ufficio e di avere invece trovato un depotenziamento dell'ufficio. Si lamenta della legge regionale che istituisce la figura del Garante dell'infanzia e non traccerebbe in maniera corretta i parametri entro i quali lei si può muovere. Per il terzo anno consecutivo approviamo un atto in Aula dove il Partito Democratico dice esprimiamo grande soddisfazione per quanto detto alla Garante, auspichiamo che qualcuno vada incontro alle sue richieste. Loro auspicano e loro governano. Cioè chi governa deve essere in grado di mettere la Garante o dicono alla Garante che non è adatta a fare la Garante, che le sue richieste non sono consone e quindi non sono coerenti con quanto la regione toscana pensa di quel ruolo e quindi la invitano a fare altro oppure la mettono nelle condizioni di poter lavorare. Noi siamo di fronte a una persona che dice ho bisogno di struttura e la regione toscana anziché dirgli non è vero o non hai bisogno oppure signi hai bisogno eccola, dice ma auspichiamo che qualcuno doti questa signora della struttura adeguata. È un senso surreale. Un'urgenza quella di razionalizzare le troppe figure di garanzie che ci sono nell'ordinamento regionale sottolineata anche da Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani. Sì assolutamente è chiaro che in questo momento parlare del Garante per l'infanzia di fronte a un caso di cronaca in cui una bambina di 5 anni si volatilizza in uno stabile occupato, in una città come Firenze in cui degrado, marginalità, sono situazioni in cui non dovrebbero mai vivere dei bambini, ci richiama naturalmente tutti quanti non solo a dei pesanti interrogativi ma diventa anche quasi preonastico parlare del ruolo del Garante dei minori proprio di fronte a questo. Io ho fatto un richiamo alla concretezza, un richiamo alla necessità di avere ben chiaro quale percorso dobbiamo fare. È inutile avere 500 garanti in Regione Toscana che sono solo poltrone e sono solo costi. Dobbiamo individuare su quali politiche puntare. In primo luogo le politiche per la famiglia perché da nucleo familiare, qualunque esso sia, io non ho nessun tipo di preclusione, parte che cosa? L'educazione, il futuro anche delle giovani generazioni e certamente ecco oggi più che mai dobbiamo avere, ripeto, ben chiaro anche che tipo di risorse mettere in campo. Le figure vengono dopo. Oggi dobbiamo solamente capire questa regione che tipo di indirizzi e quante risorse può mettere in campo su famiglie e politiche giovanili, senza scordarci quello che io ritengo essere un caposaldo che dovrebbe stare alla base anche della programmazione in questa regione. Il patto generazionale. Oggi tanti ragazzi non hanno le stesse possibilità che hanno avuto nei decenni passati i nostri genitori. Capire che questo gap generazionale va colmato con delle politiche efficaci, con risorse importanti, io credo sia un altro segnale. Quindi meno garanti, meno poltrone, più politiche diciamo efficaci per famiglie giovani. E sentiamo adesso il commento da parte del vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli. Sono stato io in prima commissione a sollevare degli elementi di criticità. Riteniamo che una funzione di garanzia a tutela dell'infanzia, degli adolescenti, dei ragazzi più vulnerabili, più fragili, dei giovani, necessiti di un impegno maggiore da parte del garante. Abbiamo predisposto come maggioranza una serie di emendamenti che mettano in evidenza la necessità di fare un lavoro più incisivo, più propulsivo, a servizio non soltanto del Consiglio regionale ma delle famiglie tutte, dei ragazzi in primis. E crediamo che sia stato opportuno fermare i lavori del Consiglio per cercare di arrivare a un punto di condivisione laddove si possa migliorare l'efficacia di uno strumento che deve servire soprattutto a favore di quei ragazzi e di quelle ragazze che più di altri sono vulnerabili in un contesto di cambiamento sociale post-pandemico che li ha visti essere coloro che più di altri hanno sofferto di questa situazione. Io ho portato avanti due testi legislativi in questi anni che sono andati nella direzione dei ragazzi per cercare di consentire di creare dei luoghi di incontro, delle forme di aggregazione ma anche tanti testi normativi e di legge che non riguardano soltanto la passata legislatura se pensiamo alle questioni che riguardavano il bullismo, il cyberbullismo ma anche questioni che riguardano un uso consapevole del divertimento, un rapporto consapevole con il divertimento dalla frequenza delle discoteche, locali di divertimento e massima attenzione a quelle che sono anche diciamo alcune patologie ormai emergenti rispetto all'utilizzo di droga e di alcol. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato attraverso una risoluzione l'attività svolta dal difensore civico regionale nel 2022. La risoluzione, già approvata dalla Commissione Affari Istituzionali presieduta da Giacomo Bugliani del PD, passa con 21 voti a favore, PD Italia Viva e 11 contrari, Lega, Fratelli d'Italia e Gruppo Misto Toscana Domani. È lo stesso Presidente Bugliani a tratteggiare le linee dell'attività. È stata l'occasione per riflettere sull'attività del difensore civico e fare anche un'analisi di ciò che è stato fatto nel non semplice 2022. C'è da dire che c'è stata una lieve flessione delle istanze presentate al difensore civico regionale, sono state 1495 le istanze presentate nel corso del 2022, quindi meno dell'anno precedente, dovuto però in realtà più che alle carenze strutturali o dell'ufficio allo strasceco derivante dalla pandemia, in quanto questo ha senza dubbio provocato un parziale allontanamento da parte dei cittadini rispetto all'Istituto della Difesa Civica. C'è stato però un progressivo avvicinamento ai territori della Toscana dell'Istituto del Difensore Civico. Sono stati ulteriormente aperti numerosi sportelli di prossimità un po' disseminati in tutto il territorio della regione. Mi piace evidenziare che questo è un aspetto nel quale si compendia l'effettiva gratuità del difensore civico, perché il cittadino in questo modo evita di avere anche i costi di trasporto per poter accedere alla tutela civica. Noi nel difensore civico ci crediamo, voi molto meno, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Casucci, in apertura di dibattito. Personalmente ritengo che la figura del difensore civico sia una figura quanto mai importante, tratta della tutela dei diritti dei toscani. Però se andiamo bene a vedere, purtroppo nell'ultimo anno notiamo un arretramento delle richieste di intervento del garante, in particolare per l'ordinamento finanziario in materia sanitaria, i ricorsi sui servizi pubblici. E questo perché? Perché il centro-sinistra con le proprie divisioni ha fatto perdere veramente troppo tempo. Per nove mesi è mancata questa figura ai toscani. Noi siamo stati molto critici che le divisioni all'interno del centro-sinistra abbiano fatto mancare questa figura ai toscani. Notiamo che il nuovo difensore civico si è messo a disposizione, cerchiamo di avere un buon rapporto, ma certo il 2022, questi nove mesi, sono stati veramente tanti. Secondo il capogruppo di Fratelli d'Italia Francesco Torselli, la parte dell'analisi da noi condivisa è quella che vede la sottolineatura di quanto sia importante la figura del difensore civico anche come strumento deflattivo. Lo scorso anno il difensore civico non ha fatto niente perché il 10 di aprile si è dimesso, dopo solo quattro mesi di lavoro, per andare a fare altro, per andare a fare l'addetto stampa dell'agenzia che rilancia i comunicati della giunta regionale. Quindi siamo stati nove mesi perché il nuovo difensore civico è arrivato a febbraio, nove mesi senza difensore civico e anche in questo caso approviamo un atto dove il Partito Democratico dice esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro svolto facendo il copia e incolla dell'atto dell'anno scorso. Di fronte a un difensore civico che lavora quattro mesi, si rimette perché va a fare altro e per nove mesi la regione toscana resta senza difensore civico perché Italia Viva e il PD si dovevano mettere d'accordo su chi nominare, noi esprimiamo grande soddisfazione. Noi dovremmo esprimere grave disappunto per quanto è successo, una soddisfazione. Il consigliere Giovanni Galli della Lega ha affrontato la questione dell'aeroporto di Peretola. Vremmo rafforzare e sostenere l'attività del difensore civico che deve avere l'aiuto e la comprensione da parte della giunta e del presidente. La relazione ci parla dei dati ambientali e della trasparenza come strumento di corretta gestione delle criticità. Ho letto la relazione in riferimento al caso, come è stato definito proprio dal difensore civico, dell'aeroporto di Peretola perché tante sono arrivate richieste da parte dei cittadini per poter monitorare l'inquinamento acustico. Chiedono di avere una centralina, di poter andare poi online per rendersi conto di quella che è la situazione. Questa è la richiesta del difensore civico, noi l'abbiamo portata in aula e l'aula ce l'ha respinta. Io credo che questo sia un messaggio decisamente sbagliato da parte della maggioranza perché dobbiamo rispetto a queste persone che stanno vivendo da più di vent'anni in una situazione di grande criticità. non ultimo ci sono state delle segnalazioni che addirittura anche l'aeroporto stesso, l'aeroporto che dovrebbe avere una chiusura intorno alle 23, addirittura un aereo la settimana scorsa è partito da Londra all'una e mezzo di notte per arrivare alle 4 e mezzo la mattina a Firenze ed è stato regolarmente lasciato atterrare. Io credo che questo, più di avere una dichiarazione del difensore civico, io credo che di più non possiamo fare. L'abbiamo portato all'aula, l'aula purtroppo ce l'ha bocciata, per cui i veri cittadini che volessero controllare quello che sta succedendo all'aeroporto di Pretola, soprattutto per l'inquillamento acustico, mi dispiace, non c'è stato niente da fare, ce l'hanno bocciata. E sentiamo anche le parole di Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale. Sul difensore civico abbiamo espresso una massima condivisione delle politiche portate avanti dalla nuova difensora civica Lucia Annibali rispetto a degli elementi importanti, rispetto alla conoscenza della funzione, una presenza sul territorio, le opportunità fornite nei confronti dei cittadini e delle cittadine toscane e soprattutto un servizio di tutela nei confronti di tanti servizi integrati dove il cittadino a volte si sente solo rispetto a queste società, a tutte le bollette che arrivano a casa, a tutta una serie di servizi dove le persone non riescono ad avere una risposta in un'interlocuzione. Quindi un elemento, un giudizio positivo che prosegue le esperienze del passato, ma che rilancia una strategia positiva che conferma anche la validità dell'operazione che portò a me stesso a avanzare la proposta di Lucia Annibali quale il nuovo difensore civico della Toscana. In occasione del 75esimo anniversario della FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, domani 17 giugno a Bibbiena si inaugurano la mostra di Nino Migliori, 75 anni di fotografia e 14 nuove installazioni a completare la galleria permanente a cielo aperto che consacra la cittadina del Casentino come città della fotografia. Bibbiena rappresenta il primo esempio in Europa di esposizione permanente di fotografia all'esterno e la più grande installazione diffusa di opere fotografiche in grande formato che si possono ammirare sulle facciate dei palazzi e lungo le mura dell'antico centro storico. A presentare l'iniziativa il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Oggi sono davvero felice di essere qui a celebrare Bibbiena, città toscana della fotografia. L'abbiamo voluta fortemente, l'abbiamo sostenuta e finanziata. Penso che questa iniziativa vada nel senso giusto. La fotografia è arte e noi viviamo nella terra, in una terra, la Toscana, di cultura, di bellezza e definire qual è la città della fotografia vuol dire anche scegliere una strada, la strada del sostegno ad iniziative come queste. Più fotografia vuol dire più libertà, vuol dire poter raccontare attraverso le immagini la nostra storia, ma vuol dire anche raccontare attraverso le immagini lo sguardo sul mondo che noi abbiamo. E sapere che a Bibbiena ci sarà la prima esposizione permanente all'aperto in Europa dà il senso del lavoro che stiamo facendo. Grazie a tutti, grazie all'amministrazione comunale, grazie a tutti coloro i quali ci hanno sempre creduto e serve anche a festeggiare 75 anni di un'associazione importante, quella della fotografia a cui va il grazie, perché ci sono stati momenti in cui sembrava quasi di perdere questo strumento come strumento di arte e di bellezza e invece investendoci abbiamo deciso di proseguire in questa direzione e allora a Bibbiena un grande in bocca al lupo è che questo riconoscimento serva per rilanciare ancora di più l'impegno in questa direzione. Questa città è diventata il punto di riferimento a livello nazionale per la fotografia, ha detto Vincenzo Ceccarelli, consigliere regionale del PD. Sono innumerevoli le iniziative che in questi anni sono state organizzate, che si sono sviluppate a vantaggio ovviamente della fotografia, degli appassionati ma anche come punto di richiamo su Bibbiena, sull'intero Casentino per quanto riguarda un turismo che magari viene per questa iniziativa ma poi ritorna per assaporare meglio questa bella parte di Toscana. Quindi il Consiglio regionale anche su mia proposta ha dato un supporto e un sostegno che mi sembra doveroso per una collaborazione e per una iniziativa che oramai si è strutturata negli anni e che veramente è un vanto per tutta la Toscana. Un'esperienza unica la definisce Marco Casucci, vicepresidente del Consiglio regionale. Sabato di fatto Bibbiena sarà al centro dell'attenzione mondiale per la fotografia. 75esimo anniversario della FIAF, inaugurazione della mossa di Dino Migliori, installazione di ben 15 opere in più per la galleria permanente a cielo aperto. È importante quando il territorio si collega a delle specificità di rilievo internazionale, è importante perché lo fa conoscere a tutto il mondo e ripeto Bibbiena ha scelto una sua strada che credo premierà, premierà perché collegare la bellezza del nostro territorio, le sue specificità alla promozione è il segreto per fare conoscere ancora di più la nostra bella Toscana e le sue straordinarie cittadine come Bibbiena e io direi tutto il casentino. Un lungo impegno, quello della nostra città per la fotografia, che vede riconosciuto il nostro ruolo di Valenza regionale. Queste le parole di Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena. Una tappa che ci vede riconosciuti come la città della fotografia per la regione toscana, ma siamo davvero felici di questo perché è un percorso lungo, nato da un impegno ormai da tanti anni, un impegno del Comune Bibbiena, un impegno di tante persone, della FIAF, la Federazione Italiana di Associazioni Fotografiche, che ha visto nascere proprio a Bibbiena il Centro Italiano della Fotografia d'Autore ormai dal 2005, un luogo importante per la nostra regione ma a livello nazionale per la fotografia e da qui è nata l'idea della Galleria Permanente a cielo aperto, che è una galleria fotografica con fotografie d'autore all'interno del Centro Storio Bibbiena, probabilmente la prima in Europa, forse la prima al mondo, quindi è una cosa singolare. Siamo davvero felici e ringraziamo la regione toscana, tutto il Consiglio regionale, perché con questa legge ha voluto riconoscere l'importanza appunto della fotografia del nostro Comune, del nostro territorio all'interno della regione. Infine, grande soddisfazione per Roberto Rossi, presidente della FIAF. C'è la concomitanza di due eventi estremamente importanti, quello del completamento della Galleria a cielo aperto con l'installazione di oltre 15 opere, oltre le 36 che sono già presenti, quindi passiamo le 50 opere presenti nel Centro Storio Bibbiena, ma in contemporanea c'è l'inaugurazione di una grandissima mostra di uno dei più importanti autori della fotografia italiana Nino Migliori, in concomitanza con il 75esimo della FIAF. Abbiamo scelto Nino per questa mostra di questo momento perché Nino Migliori compie 75 anni di fotografia e è l'autore che ha attraversato tutto il periodo della vita della nostra federazione attivamente, nel senso come autore. Quindi ci è sembrato giusto dargli questo riconoscimento in un momento così particolare, sia per la storiografia, per la sua storia e per quello che sta accadendo a Bibbiena che verrà programmato ufficialmente, Bibbiena è la città della fotografia, quindi sicuramente un gran fine settimana.